SIGLA Mi sentivo... Mi piaceva essere guardata. Mi piaceva sapere che li seducevo. Vederli eccitati. Ma dopo un po' tutto questo mi annoiava. Attento! Pronto? Sono Stephanie. Sai che mi è successo? Andiamo a fare il bagno? Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Io cosa sono per te? Un'amica? Una compagna? Uno sparring partner come Foed e gli altri? Se vuoi che andiamo avanti dobbiamo fare le cose per bene. È di gentilezza che parlo. No. No. Dottor! Grazie a tutti.